Quello di oggi sarà uno dei giorni più caldi di questa prima ondata di calore dell'estate, con otto città da bollino rosso, tra cui Ancona, Perugia, Rieti e Roma, e altre dieci da bollino arancione, tra cui Pescara, Napoli, Bologna e Trieste. Eppure, malgrado il caldo renda l'AFA insostenibile al centro-sud, l'anticiclone africano minossi ha le ore contate, almeno al nord Italia. Da domani al settentrione l'arrivo di quella che i meteorologi chiamano la goccia fredda porterà forti temporali con il rischio di grandine. Prudenza dunque per l'ondata di calore, ma anche per i temporali che saranno localmente intensi al nord. Intanto nella capitale la morsa del caldo non si attenua. Bisogna bagnarsi sempre la testa, bere tanto. È l'unico modo. Se oggi è una giornata caldissima, poi tra l'altro è quasi tutta la settimana ormai. Infatti qua si fermano 18.000 turisti, tutti qua alla Fontanella. Nella giornata di ieri gli operatori di Greenpeace hanno filmato alcuni dei monumenti più iconici della capitale con telecamere a infrarossi per misurare la temperatura delle superfici murarie. In piazza San Pietro e al Colosseo le termocamere usate dagli operatori hanno rilevato picchi di caldo oltre 50 gradi sulle superfici dei monumenti, molto al di sopra delle temperature rilevate in passato sulle stesse mura. A causa delle forti temperature, un senzatetto senegalese di 63 anni è stato trovato senza vita in via del Viminale nei pressi della stazione Termini a Roma, dove secondo il monitoraggio delle telecamere ad infrarossi di Greenpeace sono stati raggiunti 56 gradi percepiti.